Vallefoglia 44enne scomparso dichiarato morto senza comunicazioni alla famiglia novità nella battaglia contro il covid in arrivo nelle marche anticorpi monoclonali vaccini richiesta priorità per i lavoratori dei supermercati annunciata nuova distribuzione dei bonus spesa domande al via dal 24 marzo Buonasera questo è il nostro telegiornale di mercoledì 17 marzo subito in apertura partiamo con la cronaca con la svolta shock nella sparizione di Marco Truffi 44enne originario di Vallefoglia trasferitosi da tempo in Germania per il quale la famiglia aveva denunciato la scomparsa l'uomo è deceduto oltre un anno fa la notifica è sopraggiunta al comune di Vallefoglia con qualche mese di ritardo ma i parenti non ne avrebbero mai ricevuto comunicazione e allora oggi andrea sabattini ha intervistato il sindaco di Vallefoglia Palmi Rucchieli sentiamo ha avuto un triste epilogo la scomparsa di Marco Truffi 44enne originario di Vallefoglia trasferitosi all'estero da diverso tempo per il quale la famiglia aveva denunciato la scomparsa rivolgendosi anche la trasmissione di re 3 chi l'ha visto l'uomo è morto negli ultimi mesi delle 2019 e la notifica delle decesso era stata inviata circa un anno fa prima alle comune di Urbino e poi a quello di Vallefoglia di quanto scoperto dall'ufficio anagrafe di Vallefoglia però pare non fosse a conoscenza la famiglia della vittima che dopo gli appelli alle ricerche ha dunque ricevuto la tragica inattesa notizia poco chiara ancora la dinamica dei fatti che avrebbe portato all'omesso avviso dei parenti il problema potrebbe risalire alla mancata comunicazione nei confronti dei familiari da parte delle consolato ma per avere certezza e per approfondire sia le cause delle tragico disuito sia il ritardo con cui l'avviso di morte è sopraggiunto ai due comuni rispetto alla data delle decesso ci sarà bisogno ancora di tempo come affermato anche dalle sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli intanto è un dolore per l'intera comunità non solo per la famiglia il consolato aveva comunicato al comune di Urbino essendo lui nativo di Urbino diciamo dopo sei mesi della morte perché la morte risale al settembre 2019 comunicò febbraio cinque o sei mesi dopo della morte e ovviamente comunicandolo al comune di Urbino il comune di Urbino a noi si dava certamente per scontato che la prima cosa che il consolato abbia comunicato non si capisce se l'ha comunicato ma pensiamo di sì alla famiglia e poi ai comuni insomma le reazioni sono state diciamo della famiglia della sorella perché la madre ha perso anche il marito quindi il padre era già morto da diversi da diversi anni di incredulità perché sulla base di questa verifica che io ho fatto fare all'anagrafe è il risultato appunto che era defunto io gli ho detto guarda che a noi risulta così ma dice a noi non c'è detto niente nessuno non so cosa è successo se il consolato l'ha comunicato alla madre e poi non la madre non la non sappiamo questo è tutto da verificare adesso stanno vedendo come fare per eventualmente riportare la salma perché devono dire ad annover dove è sepolto e come fare si sta interessando la famiglia per vedere se è possibile riportarlo diciamo nei cimiteri nostri della città di valle foglia credo comunque deciderà la famiglia dove e rimaniamo a valle foglia perché nella serata di ieri ha suscitato paura l'incendio che si è sviluppato in un'abitazione situata in via madonna dell'arena prezioso l'intervento dei vigili del fuoco che hanno sedato le fiamme in qualche ora ingenti danni alla struttura ma fortunatamente i due coniugi che si trovavano al suo interno non hanno riportato conseguenze fisiche paura ieri sera valle foglia più precisamente in via madonna dell'arena dove nelle prime ore serali intorno alle 19 è scattato l'allarme per un vasto incendio che ha interessato un'abitazione i vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto con più di un mezzo sono riusciti a placare le fiamme in qualche ora ingenti i danni alla struttura e soprattutto al tetto come racconta anche il proprietario dell'immobile paolo giro lomoni il quale si trovava all'interno dell'abitazione dalla quale fortunatamente evacuato insieme alla moglie senza conseguenze fisiche la situazione tragica in realtà una casa che abbiamo fatto con tutto il lavoro di una vita praticamente niente rischia ci siamo accorti verso le sette che uscivano le fiamme da sotto alla grondaia perché c'è un tetto ventilato in legno e probabilmente i pompieri hanno detto che si è innescato l'incendio da una canna fumaria quanto ci si accorge che il fuoco è sotto vuol dire che già il tetto è completamente bruciato quindi abbiamo chiamato i pompieri però hanno fatto quello che hanno potuto l'hanno spettato nel giro di un paio d'ore ed è stato impegnativo ma il problema grosso adesso è l'acqua i danni che ha fatto perché trasludono tutti i solai tutto il catrame l'acqua catramata perché poi il catrame di copertura scende tutto ha sporcato tutto pavimenti distrutti immobili è distrutta adesso vediamo un po' e in primo piano questa sera anche il bollettino riguardante i dati covid 19 sul nostro territorio il servizio sanità della regione marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7.611 tamponi 4.633 nel percorso nuove diagnosi 2.978 nel percorso guariti i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 856 un terzo dei quali è stato riscontrato ad ancona 98 invece i nuovi casi positivi nella provincia pesarese alto il numero di vittime notificato anche nella serata di ieri dal servizio sanità della regione tra i 15 decessi registrati una vittima era residente nel comune di colli al metauro come già annunciato da asura d'inizio settimana in seguito al blocco nazionale delle dosi astrazeneca anche per la giornata di domani giovedì 18 marzo la seduta vaccinale in programma al centro sociale monaldi di pesaro è annullata le prenotazioni saranno automaticamente rielaborate e comunicate agli interessati senza necessità di una nuova prenotazione è stato un consiglio regionale davvero lunghissimo quello che si è tenuto ieri nella modalità della videoconferenza durante il quale la giunta marchigiana ha annunciato diverse novità che verranno messe in campo per combattere il covid anche nella nostra regione prima fra tutte l'arrivo degli anticorpi monoclonali vediamo è durata quasi dieci ore la seduta del consiglio regionale incentrata sul tema della sanità che si è svolta in modalità di videoconferenza primo intervento è stato del governatore francesco acquaroli che ha parlato delle difficoltà derivate dal rallentamento registrato dalla campagna di vaccinazione in seguito alla sospensione nazionale di astrazeneca nelle marche sono 22 mila le dosi bloccate fino al pronunciamento dell'aifa sempre in tema vaccinazioni acquaroli ha annunciato l'istituzione di una cabina di regia regionale con il potenziamento del sito internet contenente i dati quotidiani sulle somministrazioni ma anche del numero verde per tutte le informazioni relative all'andamento della pandemia per far fronte a questi disagi abbiamo ripotenziato e sarà potenziato anche nelle prossime ore il numero verde per il coronavirus 893 66 77 sarà un numero verde che sicuramente avrà l'utilità lo ripeto lo stiamo potenziando perché dovrà avere l'utilità di fare da ehm sostegno informativo a tutti i cittadini che vogliono che vogliono eh informazioni dettagliate rispetto alla vaccinazione e rispetto al loro percorso per la vaccinazione stiamo predisponendo un sito internet che possa quotidianamente dare tutte le informazioni sulla vaccinazione in corso della nostra regione il tipo eh il numero dei vaccini che abbiamo il numero dei vaccini inoculati quali tipo di vaccini sono stati inoculati Pfizer Moderna AstraZeneca e tutti gli altri vaccini che saranno in futuro il numero dei vaccini che eh è ancora diciamo eh da inoculare ma che è già in possesso del nostro sistema sanitario regionale e quando la vaccinazione si aprirà con forza ai medici di medicina generale e alle imprese anche questo tipo di specifica per i medici di medicina generale e per le imprese. A breve le Marche si doteranno di un nuovo strumento per combattere il covid a livello regionale. Si tratta degli anticorpi monoclonali di cui sono già arrivate 133 sacche per la sperimentazione come riferito dall'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. Noi abbiamo due progetti già approvati dall'AIFA uno dall'azienda ospedaliera Marche Nord e una dall'ASU Torrette e Spallanzani e Ministero della Salute che ha visto la validazione dell'AIFA e in questi giorni l'AIFA ci ha consegnato 133 sacche per avviare la cura di quella che viene considerata tra virgolette la pillola del giorno dopo contro il covid. Durante la sua relazione Saltamartini ha poi sottolineato il grande sforzo e la pressione che si registrano attualmente in tutte le strutture ospedaliere della regione insieme ai dati delle nuove assunzioni effettuate nelle Marche a livello sanitario. Dal 31 ottobre al 28 febbraio abbiamo assunto 73 nuovi medici e abbiamo assunto di quel concorso di 3.000 infermieri ne abbiamo assunti 350 quindi quando avete detto una frazione 350 su 3.000 sono una una frazione piuttosto importante. Abbiamo portato i medici USCA da 21 equipaggi a 34 in questi mesi e vi informo pure che nel 2021 stiamo per bandire concorsi per 11 psicologi che andranno a integrare gli equipaggi USCA sul territorio. Ed ora passiamo a un'ultima ora di cronaca perché i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Fano hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino albanese di 38 anni. Di Moranti a Rimini è responsabile di ripetuti episodi di spaccio di sostanze stupefacenti avvenuti a Fano e Mondolfo a favore di un giovane del posto tratto in arresto proprio a seguito di una cessione di stupefacente il 3 dicembre scorso. Il cittadino albanese dall'aprile al dicembre 2020 aveva rifornito lo stesso giovane più volte con una frequenza di una volta al mese. Gli spacci avvenivano su Fano, su Mondolfo e nel circondario di Pesaro. Da ulteriori indagini è emerso come il soggetto fosse stato già espulso dal territorio nazionale nel 2015 che utilizzasse delle nuove generalità al fine di far perdere le proprie tracce e che a suo carico fosse già pendente un ordine di carcerazione per analogo reato. Ancora un altro flash di cronaca perché dopo il sequestro di circa 500 litri di gasolio con un'operazione effettuata lo scorso anno la guardia di finanza di Pesaro Urbino ha intensificato i controlli volti a limitare i traffici illeciti, controlli che hanno portato ad un nuovo sequestro a Mondolfo questa volta di circa 150 litri di gasolio. Il mezzo sottoposto a verifica dei finanzieri e condotto dal dipendente di una ditta anconetana operante nel settore petrolifero è risultato contenere un quantitativo di carburante eccedente rispetto a quanto dichiarato. L'autotrasportatore e il titolare dell'impresa petrolifera sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Pesaro e rischiano la reclusione da sei mesi a tre anni e una molta di importo fino a dieci volte il valore dell'imposta evasa. Ed ora apriamo la consueta pagina dedicata alle vostre segnalazioni. In questo caso ci scrive un nostro telespettatore per informare di quello che avviene ormai da una settimana in via Luino, via parallela di via Costa. Accanto ai cassonetti dell'immondizia per la raccolta differenziata è stata abbandonata un'ingente quantità di rifiuti come vedete appunto elettrodomestici, sanitari, mobilio distrutto e non solo, compongono appunto la moltitudine di oggetti che staziona quindi da diversi giorni proprio in questa zona senza che ancora sia stato fatto alcun intervento, guardate, per togliere questo materiale. Ignoti ovviamente gli incivili che hanno deciso di abbandonare tutta questa spazzatura proprio a margine del tratto stradale. Terremo vigilata la situazione fino a quando i rifiuti non verranno regolarmente rimossi da chi di dovere. Ed ora torniamo a parlare di vaccinazioni perché dopo lo stop alla somministrazione di AstraZeneca le nuove vaccinazioni anti-covid si sono fermate chiaramente anche nel territorio pesarese. Con la speranza che la campagna possa ripartire velocemente sono diverse le categorie di lavoratori che dopo insegnanti e forze dell'ordine aspettano di poter ricevere il vaccino. Tra questi ci sono i dipendenti ad esempio dai supermercati, attività essenziali che non si sono mai fermati dall'inizio della pandemia. Vediamo questo servizio. Zona gialla, arancione o rossa. In qualsiasi pascia di rischio la regione e più in generale il paese si sia trovato dallo scoppio dell'emergenza covid, sono diverse le categorie di lavoratrici e lavoratori che non hanno mai smesso di svolgere la propria attività. Tra i servizi essenziali indicati dai dpcm entrati in vigore da inizio pandemia, figurano in prima linea le aperture mai interrotte dei supermercati e di conseguenza il lavoro dei loro dipendenti. Da qualche settimana a livello nazionale si è alzata la discussione per richiedere che i tanti impiegati del settore vengano inseriti tra le categorie prioritari per la campagna di vaccinazione. L'esposizione a rischio è infatti elevata, considerato il contatto dei lavoratori con clienti e persone che quotidianamente si recano a fare la spesa. Tutti i collaboratori, le persone che lavorano all'interno dei supermercati hanno fino ad oggi svolto il loro lavoro nel rispetto delle norme ma soprattutto nel servire un servizio essenziale per tutta quanta la comunità. È evidente che i rischi ci sono, ci sono stati e ci saranno e visto che c'è un'esposizione continua da parte di tutte le persone che oggi lavorano nel commercio verso questi rischi è opportuno che anche queste persone abbiano un'attenzione particolare da parte del governo, in questo caso del generale Figliuolo, nel essere garantiti in un prossimo piano di vaccinazione. Non c'è nessuna volontà di passare prima rispetto ad altre categorie ma tanto quella di essere riconosciute come categorie che hanno svolto un ruolo essenziale verso la comunità e come tali possono contribuire attraverso il fatto di essere preprimi vaccinati a garantire a tutte le persone che vanno a fare gli acquisti una tutela della salute pubblica diffusa. Insieme ad altre categorie di lavoratori che hanno svolto un ruolo fondamentale per superare questo momento mi riferisco in particolare a tutte le persone impegnate nell'ambito sanitario e nei servizi pubblici essenziali c'è quello giustamente degli operatori del settore alimentare che come nel caso nostro non hanno mai smesso di lavorare e hanno sempre garantito un servizio verso la comunità. Siamo impazienti, penso che sarà questione di qualche settimana, però in questa attesa dobbiamo affrontare questo momento con un senso di responsabilità. A livello locale, proprio l'Iperconad di Pesaro si prepara ad ospitare la nuova sede di vaccinazione che entrerà in funzione il prossimo 29 marzo e che sarà allestita nei locali dell'ex ristorante presente all'interno del centro. È un'operazione che si sta portando a termine, c'è stata fatta una richiesta da parte del comune, c'è stato fatto un sopralluogo da parte dell'Asle, noi come ipermercato, come centro commerciale abbiamo dato tutta la nostra disponibilità e penso che tra un paio di settimane ci sarà a disposizione per tutta la cittadinanza questo importante hub che contribuirà ovviamente a velocizzare questo processo di vaccinazione collettiva. Per impedire il verificarsi di nuovi assembramenti, dopo gli episodi intercorsi negli ultimi giorni, il sindaco di Vallefoglia, Palmirucchielli, ha emanato un'ordinanza valida da questa mattina fino alla mezzanotte del prossimo 24 marzo, con la quale sono stati chiusi ed è stato vietato l'accesso ai parchi e giardini pubblici del comune di Vallefoglia. Il comune di Pesaro, già impegnato in molteplici attività di sensibilizzazione e di tutela dell'ambiente, avvia un nuovo percorso insieme alla Onlus Plastic Free. L'associazione è nata nel luglio 2019 con l'obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, promuovere numerosi progetti dalla raccolta nelle spiagge e città al salvataggio delle tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole al progetto con i comuni. E dal prossimo 24 marzo sarà possibile presentare le domande per accedere alla quarta distribuzione dei buoni spesa, la misura stanziata dall'amministrazione comunale di Pesaro a sostegno dei cittadini in difficoltà economica generata proprio dal Covid-19. Allora vediamo chi potranno essere i beneficiari di questi bonus e tutte le modalità per presentare la domanda. Con la quarta distribuzione tornano i buoni spesa destinati alle famiglie pesaresi in difficoltà economica. L'amministrazione comunale ha infatti destinato 400.000 euro per la nuova operazione che consentirà di spendere i voucher in beni di prima necessità entro il prossimo 31 maggio. Ad annunciare l'approvazione per il ripristino della misura a sostegno di cittadini e titolari di attività economiche nel profondo momento di crisi legato al Covid è stato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, sottolineando che dopo l'ultima iniziativa messa in atto negli scorsi mesi di novembre e dicembre, quella in partenza sarà la quarta distribuzione dei buoni che l'amministrazione ha predisposto in meno di un anno. In caso di numero di domande in esubero sarà data priorità alle famiglie che pagano il canone d'affitto o il mutuo della prima casa e ai nuclei con maggior numero di figli minori. Potranno fare richiesta di accesso ai buoni le famiglie di un componente che hanno percepito nel mese di febbraio 2021 un reddito netto inferiore agli 800 euro, quelle di due componenti che abbiano reddito inferiore a 1.000 euro, di tre o quattro componenti con reddito non superiore a 1.200 euro, oppure i nuclei con cinque o più componenti e un reddito inferiore ai 1.500 euro. Le domande potranno essere presentate dalle ore 9 di mercoledì 24 marzo fino alle ore 13.30 di lunedì 29 tramite la consueta modalità dell'autocertificazione online. Il modulo sarà reperibile sempre dal 24 marzo sul sito del comune di Pesaro nella sezione servizi online. Una volta accolta la richiesta, le famiglie formate da un componente riceveranno 140 euro, quelle da due 200 euro, quelle con tre componenti riceveranno 260 euro, quelle composte da quattro 320 euro e infine i nuclei con cinque o più persone avranno diritto a 380 euro. Il bonus, che sarà consegnato sotto forma di buono spesa dal valore di 10 euro ciascuno, potrà essere speso in negozi della città per l'acquisto di beni di prima necessità e alimentari. A partire dal 24 marzo sarà attivo il numero telefonico 0721 17 43 66 2 per chiarimenti e supporto alla compilazione online della domanda. Sarà possibile contattare gli operatori dalle 9 alle 13.30 e poi dalle 15 alle 17 nelle giornate di mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 marzo, mentre per la giornata di lunedì 29 la reperibilità telefonica è garantita unicamente nella fascia mattutina. I buoni saranno consegnati dai volontari organizzati dai consigli di quartiere e la consegna avverrà direttamente nelle abitazioni dei beneficiari. Le domande dovranno essere presentate dalle 9 di mercoledì 24 fino alle 13.30 di lunedì 29 marzo. Il termine utile per spendere i buoni spesa è previsto invece per il 31 maggio. Ricorrevano ieri 16 marzo 100 anni dalla scomparsa del noto drammaturgo pesarese Ercole Luigi Morselli. Per onorare tale ricorrenza e ricordare la vita e le opere di Morselli, la Biblioteca Oliveriana ha allestito una mostra fotografica digitale, visitabile sul sito internet del Lente. A parlarci di questa iniziativa in questa prossima intervista è proprio la direttrice protempore della Biblioteca, Brunella Paolini. In Oliveriana conserviamo l'archivio e la Biblioteca di Ercole Luigi Morselli che è stato donato alla Biblioteca Oliveriana diversi anni fa dagli eredi del drammaturgo. Una parte di questo archivio compiene e comprende anche un fondo fotografico. Stimolati anche da un finanziamento apposito della Regione Marche sulla catalogazione dei fondi fotografici abbiamo pensato, oltre alla catalogazione delle fotografie, anche a un evento che potesse mostrare il fondo con quello che contiene. Non potendo fare un'esposizione in presenza per i noti motivi legati alla situazione sanitaria abbiamo immaginato un'esposizione virtuale e questo è quello che è stato presentato ieri e il risultato di quello che abbiamo fatto ora è visibile attraverso il nostro sito e invitiamo quindi tutti a andare a vedere nel nostro sito la ricostruzione che è stata realizzata delle stanze oliveriane, quindi in realtà questa esposizione è anche una passeggiata nelle stanze oliveriane che contengono poi alcune delle fotografie di Ercole e Luigi Morselli. Abbiamo appunto pensato a questa forma diversa, per noi è anche nuova, così inauguriamo anche un nostro nuovo modo di comunicare attraverso esposizioni digitali che chiaramente non sostituiranno gli eventi in presenza quando saranno possibili, però nel frattempo insomma ci stiamo adeguando e stiamo pensando a nuove forme anche di comunicazione anche per il nostro pubblico vicino e lontano. Sicuramente Morselli è stata una figura molto rappresentativa di una certa drammaturgia studia di inizio del XX secolo. Per visionare la mostra è necessario accedere al sito istituzionale del Lento Olivieri, l'indirizzo è www.oliveriana.pu.it, dall'home page si accede alla sezione esposizioni virtuali e da lì poi all'esposizione vera e propria, quindi alla possibilità di accedere direttamente all'esposizione. Prima di chiudere però voglio ricordare anche i collaboratori perché chiaramente le cose non si fanno mai da soli e quindi voglio ricordare Arianna Zaffini, l'archivista Arianna Zaffiri che ha curato con me la mostra e si è occupata anche della catalogazione di tutto il fondo fotografico, poi Marco Andreani che ha realizzato l'allestimento digitale e poi voglio ringraziare Lucia Ferrati e Cristian della Chiara che ci hanno regalato un momento di lettura di un brano di Ercole e Luigi Morselli, anche questo visibile attraverso il sito e chiaramente poi Lucia Ferrati va sempre ricordata per il lavoro che ha fatto proprio sull'archivio che noi abbiamo qui in Oliveriana e che ha studiato diversi anni fa e i cui risultati sono visibili in alcune sue pubblicazioni. E allora complimenti alla Biblioteca Oliveriana per questo bel progetto, adesso noi andiamo a vedere la programmazione di Rossini TV di questa sera questa sera per supportare ed essere vicini alle scuole di danza trasmetteremo il saggio dell'Ecole des Toiles, l'emozione nasce dove corpo e mente si uniscono. Alle ore 21.15 quindi rivedrete questo bellissimo spettacolo. E poi vi ricordiamo che domani è la giornata dedicata al basket giovedì, infatti alle 21.15 torna una nuova puntata di Insieme a Canestro. Con noi ci saranno Stefano Cioppi che è direttore sportivo della VL, Giovanni Prodi che è pro di sport e poi Gerkov che è ex giocatore della VL, chiaramente tutti coordinati dal nostro Marco Cadendu. E poi vi ricordo la rassegna stampa di domani, queste sono le repliche, se non riuscite a vederla in diretta alle 7.20 sia sulla pagina Facebook, che sul nostro sito in streaming, che sul canale 633, queste scritte sono appunto le repliche per poter vedere assieme a noi i titoli dei quotidiani locali. E allora vi aspetto domani mattina alle 7.20, buona serata a tutti voi e grazie.